Il processo di pace in Colombia, la bellezza e la ricchezza della Chiesa in America Latina, la crisi in Grecia. In un'ora di colloquio con i giornalisti in volo tra Assunzione e Roma, Papa Francesco ha risposto a 14 domande spaziando in diversi ambiti. Parlando della situazione in cui riversa Atene, il Pontifici ha sottolineato che parte della responsabilità e dei passati governi, auspicando allo stesso tempo una reale soluzione del problema e un processo di controllo anche per gli altri paesi a rischio. La Chiesa in America Latina, ha detto poi, è giovane e con una certa freschezza e può offrire tanto a tutti noi. Con lo sguardo rivolto al viaggio negli Stati Uniti, al Sinodo dei Viscovi sulla Famiglia, passando per la ricchezza dei movimenti popolari, il Pontifici ha anche fatto una battuta sui tanti selfie che gli chiedono di fare, confessando di sentirsi un bisnonno che rispetta però le altre culture.